Dopo l'attentata al presidente del parco, Giuseppe Antoci, le forze dell'ordine continuano a colpire la criminalità insediata nei comuni dell'area dei Nebrodi. I controlli a Sant'Agata Militello e Naso, effettuati dai carabinieri del comando provinciale di Messina, con il supporto dello squadrone e riportato cacciatori Calabria, hanno portato a ritrovamento di 13 chili di marijuana. Arrestato per produzione e traffico, detenzione illecita di stupefacenti, Francesco Nicodemi, allevatore Giannuto alle forze dell'ordine, che aveva occultato la droga sotto alcuni fusti metallici in un casolare di sua proprietà. Altri controlli sono stati effettuati nei confronti di soggetti gravati da provvedimenti restrittivi. Al porto di Torrenove è stato arrestato Giuseppe Praticò per violazione del regime di sorveglianza speciale, che l'obbligava a non allontanarsi dalla sua abitazione in alcune ore della giornata. L'uomo è stato sorpreso durante un'escursione in barca, sulla terraferma, ad attenderlo i carabinieri di Sant'Agata Militello, che dopo averlo bloccato hanno eseguito anche una perquisizione nella sua abitazione. Veniva ritrovato un'ingente quantità di attrezzi da pesca, risultati rubati.